Con circa un mese di ritardo il centro vaccinale per Arezzo si sposterà all'Arezzo Fiere Congressi al Teatro Tenda martedì 13 aprile. Tra le dosi di vaccino che non bastano e qualche caos informatico sui vari portali, anche dalle nostre parti la campagna vaccinale è piuttosto lenta. Da ieri lo stop alle somministrazioni al centro affari di AstraZeneca proprio per mancanza di dosi. Il Teatro Tenda, la struttura che si affaccia sul parcheggio di un noto ipermercato, era stata messa a disposizione da tempo incomodato d'uso gratuito da parte del comune un mese circa, ma senza dosi la campagna ovviamente non può proseguire. Dal report della ASL ad oggi sono state vaccinate 53.470 persone, di cui circa 18.000 ultraottantenni, 11.000 coloro che invece non hanno ancora compiuto 80 anni, ma rientrano nelle fasce di età vaccinabili con AstraZeneca. 3.208 i soggetti vulnerabili, ancora pochi, pochissimi i caregiver, coloro cioè che si occupano dei cosiddetti fragilissimi, solo in 76 sono stati vaccinati. Per quello che riguarda il tipo di vaccino prevale Pfizer con oltre 28.000 dosi, 21.000 quelle di AstraZeneca e 4.000 Moderna.